A 48 ore dalla delicata partita contro il Taranto, gli uomini di Rastelli restano isolati nel bunker del Partenio Lombardi, dove il cancello resta sbarrato a curiosi giornalisti e tifosi. Ieri, l'unico a violarlo, oltrepassando il confine della clausura, è stato padre Giacinto, 83enne, nativo di Bisaccia, con un passato da cappellano nella squadra della Serie A ed oggi frate minore nel convento di Taurano. Padre Giacinto si è presentato a bordo della sua golf con l'ingenuità di un angelo, suo nome di battesimo, davanti al cancello per chiedere di entrare e benedire la squadra. Impossibile per il tecnico di Pompei non fare un'eccezione alla regola. Anzi, conoscendolo da anni, l'allenatore è uscito in prima persona ad accogliere il francescano, introducendolo nello stanzone dove per anni è stato di casa. Sorridente e soddisfatto come un bambino, padre Giacinto ha dispensato una buona dose di acqua santa su tutti, lasciando poco dopo lo stadio per far ritorno a Taurano. Esaurito il fuori programma, che è servito pure a distendere un po' l'attenzione, la squadra si è poco dopo ritrovata in campo per la consueta partitella in famiglia di metà settimana. Un test diverso dal solito, che è servito soprattutto per sperimentare nuove soluzioni tattiche. Quella che da qualche giorno frulla in maniera insistente nella testa dell'ex trainer del Cagliari, riguarda il varo di un nuovo assetto difensivo. Allungando la coperta, laddove in questo momento il malato Avellino soffre di più con la difesa a tre, come evidenziato dagli otto gol incassati nelle cinque partite di campionato del dopo Taurino, potrebbe tuttavia finire per complicare le cose in mediana e in attacco. Un doppio rischio, su cui lo staff tecnico sta riflettendo, ma soprattutto lavorando. La decisione di procedere ad una svolta tattica, tuttavia, appare sempre più probabile, anche se la virata sul vecchio 3-5-2 comporterebbe la dolorosa rinuncia ad un terzo della rosa composto da esterni che non sono finora quasi mai stati in grado di far decollare il gioco dei bianco-verdi. Diversamente, nel più probabile 3-4-1-2, soprattutto Russo, Canutè o lo stesso Ceccarelli, avrebbero la possibilità di agire tra le linee, libere di uscire dalla loro zona di competenza, ma obbligati quantomeno a dare un'occhiata nella fase di non possesso al regista del Taranto, che Capuano schiererà come sempre sul canovaccio del 3-5-2. Per pensarci, ci sono ancora 48 ore. Chiaramente la scelta dei singoli sarà vincolata a quella del modulo, anche se il rilancio in difesa di Dianes e Zanandrea appare sempre più probabile al pari dell'alternanza sulla fascia destra tra Ricciardi e Rizzo, turnazioni quasi imposte da tre impegni in calendario nell'arco di una settimana. Grazie a tutti.